Musica Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video Sono Tony Rosa Nera e sono qui di nuovo su Clash of Clans Ragazzi sto per fare di nuovo il secondo attacco Qui stiamo vincendo la guerra 40 a 29, mamma mia Ovviamente il mio amico sta attaccando Ora vediamo che cosa ha fatto Ovviamente vi faccio vedere alcuni attacchi che ha fatto l'amico mio 75% ha fatto, vai PG Alcuni attacchi che hanno fatto gli amici miei qua ci sono 3 stelle 2 stelle qua, 3 stelle Farò vedere dei brevi video di 3 stelle ragazzi 3 stelle pure qua 3 stelle che vi ho fatto vedere dall'amico mio Andrea che farò vedere pure ragazzi Vediamo che cosa ha fatto Le play Vediamo con che cosa ha attaccato Mamma mia Uè, bello Che attacco Maria Il devasto più totale Di PG Di niente PG Mamma mia Mamma mia I pecca Magari la bicicletta Non ho io Bella Sabaru Bella Mamma mia Che devasto Il devasto più totale Ragazzi Ragazzi Le streghe fanno Il devasto pure Quella Alcovizio Non fa un gianchè Però Quella 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 Regina morta Peccato 80% 82% 82% Ovviamente 3 2 1 0 E' finita 82% Per l'amico mio Ragazzi Mamma mia Il devasto più totale Bello Vediamo Vediamo Il numero 11 Che ha fatto E quando Vediamo Mamma mia 34 Domatori Ovviamente C'è il drago Ha fatto bene L'amico mio A fare uscire Il devasto più totale Ha fatto Mamma mia Ottimo Mamma mia Il devasto più totale Ha fatto Mamma mia Mamma mia I domatori I domatori di livello 5 Sono Una cosa Incredibile Ragazzi Aia La bomba Mamma mia Niente Niente Hanno fatto Piazza pulita Mamma mia Mamma mia Gazzia pulita ha fatto Mamma mia Vediamo l'amico mio Marzio che ha fatto Vediamo che numero era 13 Ha fatto il 15 però Vediamo Replay Moni Veloce Vediamo Vella mamma mia Alla facciata Avere i draghi a livello 3 è una cosa bello Aia Bellissima Mamma mia che devasto Ragazzi ora mi vado a fare Il mio attacco Ovviamente Quella Fuglia di re barbaro Mamma mia quanto è veloce Mamma mia Niente raga Commentate per questo video Che hanno fatto i miei amici E ovviamente noi partiamo Con il nostro attacco Vediamo Come è fatto Allora Non credo di farci due stelle Forse Non lo so Però Ci posso provare Attacco da Allora Direi che potrei attaccare anche di qua O di qua Ma si Facciamo quello che possiamo fare Tanto alla fine Credo che attaccheremo Dove ci sono i Depositi Almeno una stella Dove hai falcela Ovviamente Andiamo Mettiamo Il drago Che mi hanno donato Ok Vediamo un po' Che riesco a fare Ok Quello che volevo Vedere Ok Andiamo Credo Di falso Le due stelle Ma si Ma voi Si Forse si 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 Mamma mia Vai Si Si Vai Vai No niente Ragazzi Il devasto più totale Mamma mia Ragazzi Voglio 2000 like Ragazzi 2000 like Per questo video Commentate Mamma mia Il devasto più totale Il devasto Mamma mia Niente Ragazzi Ragazzi L'amico mio Ha fatto un attacco Con i draghi A tre Io ce l'ho Al due Mamma mia Ragazzi Lasciate un commento Per questo attacco Lasciate un commento No Niente Dopo Bello Ragazzi Ma voi Ma voi 3 stelle Mamma mia Ragazzi 2 stelle Per noi Per 2 stelle Mamma mia Il devasto Il devasto Mamma mia Ragazzi Lasciate un commento Per questo video Mamma mia Ragazzi Troppo bello Lasciate Tanti commenti E noi Ci vediamo Al prossimo Video Ciao a tutti Ragazzi E Grazie.